Ora è quasi ufficiale il vice sindaco del Comune dell'Aquila ed ex procuratore della Repubblica Nicola Trifoggi è pronta a candidarsi sindaco. Con una lista civica, con tanti giovani, oltre gli schieramenti di partito ed oltre il partito democratico, e quella che oggi è anche la sua maggioranza. Ed è per questo che Trifoggi, di primaria del centro-sinistra, non ne vuole nemmeno sentir parlare. Sto proponendo uno schieramento alternativo, ribadisce al nostro microfono. È una ipotesi che sto valutando. Io non sono iscritto a nessun partito, non intendo iscrivermi a nessun partito. Ho la sensazione che una città possa essere amministrata bene, indipendentemente dal colore politico, in quanto non si tratta di determinare le scelte di politica economica nazionale o di politica estera. Lì sì, ci vogliono i partiti, le forze politiche, perché vi sono visioni ideologiche contrastanti fra di loro e assolutamente non conciliabili. Qui no, l'obiettivo di un'amministrazione in questa città è quello di far rinascere questa città. E allora per conseguire questo obiettivo non c'è visione di sinistra, di destra o di centro che tenga. Tutti dobbiamo essere d'accordo su quelli che sono gli obiettivi. Trifuoggi si dice poi sorpreso, ma lusingato, dell'endorsement ad una sua candidatura da parte di Giorgio De Matteese di L'Aquila Città Aperta, esponente dello schieramento di centrodestra. Purché il suo su un appoggio a titolo personale e non partitico, tiene ovviamente a precisare. Se è una dichiarazione di appoggio a livello personale come elettore non può che farmi piacere, come quelle di tutti gli altri elettori di sinistra, destra o centro che riterranno di appoggiare la mia candidatura. Se è una proposta invece di un accordo a livello politico assolutamente no, io non intendo fare accordi politici con nessun partito.